Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. Ampio spazio alla cronaca rissa tra giovanissimi in un bar a Bacoli, identificati responsabile e sospesa. L'attività ancora cronaca, istorsioni ad un cantiere nautico di Licola, identificati i responsabili controlli a tappeto a Pozzuoli rinvenute, armi e droga. Ci occupiamo poi dei nuovi finanziamenti per la transizione ecologica e le politiche sociali. A parlarne ai microfoni di TV City l'onorevole del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo. Torniamo a Torre del Greco, dove è stato sottoscritto l'accordo tra il Comune e i volontari del Corpo Gab per la tutela degli animali. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Lo scorso sabato hanno dato vita ad una violenta rissa in via Miliscola, strada di Bacoli, parallela ritorale occidentale della provincia di Napoli, e lungo la quale si ferve la movida estiva. Sono tutti giovanissimi, molti non raggiungono i 18 anni. Queste non li ferma e armati di coltelli, tirapugni e caschi, decine di giovani si affrontano in una zuffa apparentemente scoppiata per motivi banali. I carabinieri della stazione di Bacoli, grazie alle testimonianze dei presenti, alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in strada e al video virale diffuso in rete e girato da alcuni passanti, hanno facilmente individuato una buona parte dei contendenti. 9 le persone identificate e denunciate per rissa, tutte dell'area flegrea, 6 sono minorenni, il più giovane di appena 15 anni. I militari, inoltre, hanno notificato al proprietario del bar, nel quale si è scatenata la furia dei ragazzi, l'avvio di un procedimento di sospensione. Continuano le indagini per identificare gli altri ragazzi coinvolti. Questa mattina, a Pozzuoli e Giuliano in Campania, i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare per estorsione aggravata dal metodo mafioso emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli, nei confronti di tre giovani di Pozzuoli, tutti vicini ed ambienti legati al clan Longobardi-Beneduce, egemone in area flegrea. In particolare, il provvedimento scaturisce dalle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica appesso il Tribunale di Napoli, a seguito di una segnalazione ricevuta dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli, nel corso di un controllo per la repressione dei reati ambientali presso un cantiere nautico di Licola di Pozzuoli. Dalle successive indagini, condotte dal citato reparto unitamente al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pozzuoli, è emerso come il titolare del cantiere nel mese di dicembre 2020, a ridosso delle festività natalizie, avesse ricevuto una richiesta estorsiva di 2.000 euro da destinare alle famiglie dei detenuti, a fronte della quale, in esito alle pressioni e intimidazioni ricevute, aveva versato una prima rata da 1.000 euro per ottenere in cambio la protezione del sodalizio criminale. Le richieste, rivolte direttamente alla vittima, erano state effettuate dagli indagati regandosi perso il rimessaggio o talvolta dando appuntamenti presso altri punti, come per rimarcare l'area di influenza del gruppo. I due sono stati arrestati e ristretti presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale, mentre al terzo è stata notificata la misura del divieto di mora nella regione Campania. Controlli a tappeto dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli a Pianura, quartiere occidentale del capologo Campania. Un servizio mirato a reprimere l'illegalità diffusa e contrastare spaccio e uso di droga che ha visto impiegate decine di militari della compagnia di Bacoli e del reggimento Campania. Controllate 123 persone, 34 pregiudicati e 56 veicoli. Numerosi i posti di controllo organizzati nelle strade ritenute più sensibili. Via Torricelli, via Montagna Spaccata, via Domenico Padula, via Salvatore Dalì. In uno spiazzo, abbandonato all'incuria, sono stati rinvenuti 51 grammi di cocaina. Erano occultati in un moretto di tufo all'interno di un piccolo shopper di tessuto. A pochi metri, in una cavità lungo lo stesso muretto, i carabinieri hanno trovato una pistola beretta e caricatore vuoto. E ancora, un serbatorio per pistola Glock, privo di poiettili. Il tutto è ravvolto in un panno da cucina. Grazie alla collaborazione del nucleo veicoli abbandonati dalla polizia locale di Napoli, sono state rimosse 22 tra autovetture e motocicli, parcheggiati in strada in evidente stato di abbandono e privi dell'assicurazione obbligatoria. 5 le persone denunciate per guida senza patente. 7 invece, i giovani segnalati alla prefettura perché assuntori di spupefacenti. I controlli continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni. Siamo qui con l'onorevole Luigi Gallo del Movimento 5 Stelle per parlare di diverse iniziative. Partiamo dal fondo stanziato dal Ministero della Transizione Ecologica. Di cosa si tratta? È un fondo che interviene per abbattere i cambiamenti climatici, ridurre i cambiamenti climatici con delle misure che possono attuare i comuni. Innanzitutto Torre del Greco ha ricevuto 336 mila euro, può ricevere 336 mila euro da questa misura, deve progettare dei bandi che riducono l'impatto dei cambiamenti climatici. Faccio due esempi. Uno è quello della riforestazione, quindi nuove parchi, nuove piantumazioni nei territori comunali e questa è una spinta che anche i nostri consiglieri comunali stanno facendo per aprire nuovi parchi in città. L'altra è quella su un annuso problema, per esempio sul Torre del Greco, che è quella degli alvei comunali. Se andate nelle zone dove ci sono questi alvi, vedete innanzitutto un impatto di inquinamento che va verso le spiagge e verso il mare e quindi si può intervenire per fare il riciclo dell'acqua, la depurazione, intervenire su queste aree che sono di proprietà comunale, recuperare l'acqua e addirittura poterle inserire in un circuito pulito agricolo. Queste sono le proposte che il Movimento 5 Stelle fa alla città, ci aspettiamo che il Comune intervenga e utilizzi questi fondi. Un'opportunità per Torre del Greco che è rappresentata anche dal punto di vista delle politiche sociali? Sì, c'è un'altra misura importante di questa settimana, è stata annunciata dal Vice Ministro all'Economia Castelli. Sono cambiati criteri di ripartizione ai comuni per le politiche sociali. La nostra regione, il Sud, sicuramente anche la nostra città, ha subito per anni il criterio della spesa storica. Lo spiego a chi ci sta ascoltando. Se praticamente in un comune non hai un asilo nido, sei destinato a non avere soldi per gli asili nido, così come per i centri per i disabili, così come per il trasporto, le case famiglia, gli interventi per la povertà minorile. Questo criterio è stato cammeato, è un successo del Movimento 5 Stelle. Adesso si guardano ai bisogni essenziali, cioè quali sono i problemi dei cittadini e in base a quelli si ripartiscono le risorse. Questo ci porta ad avere una buona e una cattiva notizia. La buona notizia è che arriveranno 440.000 euro in più, quindi arriviamo a quasi un milione di euro per il comune di Torre del Checo sulle politiche sociali. La cattiva notizia è che se oggi c'è questo incremento, significa che fino adesso i soldi sono stati spesi male e poco. Quindi sicuramente adesso ci sarà un monitoraggio, quindi dovranno aumentare gli assistenti sociali, bisognerà intervenire su tutti i servizi non garantiti, ai disabili, al trasporto, ai minori a rischio, alle famiglie a rischio e soprattutto aumentare la qualità. Io purtroppo ricevo dai cittadini tante segnalazioni di gestione negativa delle politiche sociali, quindi il mio invito è a cambiare la qualità, a portare legalità in questo settore e fare in modo che chi ha veramente bisogno riceva come diritto un servizio e non come un piacere dalla politica. Il comune di Torre del Greco si impegna seriamente per la tutela degli animali. Accordo fra amministrazioni e volontari del GAV per garantire un impegno su tutto il territorio cittadino. Le guardie ambientali si occuperanno delle deiezioni canine non raccolte, educando anche gli incivili. Tuteleranno maggiormente le numerose colonie feline e interverranno in caso di maltrattamenti. È un protocollo che vede la nostra partecipazione chiaramente gratuita, ma il nostro impegno che resterà sempre costante. È una situazione non semplice, il territorio del comune di Torre del Greco conta all'incirca più di 200 colonie feline, quelle che sono censite chiaramente. Quindi è una situazione non semplice e attualmente non abbiamo neanche la gratuità delle sterilizzazioni da parte dell'asile perché sono ferme. E quando abbiamo la possibilità di avere appuntamenti, questi sono sempre a lungo, ci sono tempi d'attesa lunghissimi, quindi è una situazione non semplice che noi cerchiamo di gestire al meglio come possiamo con le poche risorse disponibili e con i nostri volontari. È un passo importante, abbiamo stipulato questa convenzione che ci darà la possibilità di avere un maggiore controllo sul territorio. Nello specifico il Corpo Gav si occuperà in maniera assolutamente gratuita del controllo del randaggismo sul territorio, nonché del controllo delle oasi feline che sono tantissime sul nostro territorio comunale e che non sono ancora censite e regolamentate a dovere. Faranno anche tutta un'altra serie di attività in collaborazione con i nostri uffici, controllo dei microchip degli animali domestici, si terranno delle iniziative per poter distribuire mangime coperte per gli animali e supporteranno anche gli uffici nella progettazione di ulteriori interventi da farsi a favore degli animali. Da circa due anni sto lavorando a questo ufficio, abbiamo raggiunto già una serie di traguardi anche a livello di numeri di cani che abbiamo nel nostro canile comunale, numero che sta scendendo fortemente in quanto siamo riusciti sia con una campagna adozioni a farne adottare alcuni, sia inserendo di nuovo i cani che vengono catturati nel proprio quartiere, microchippandoli e dandoli in affidamento alle associazioni e ai comitati di quartiere e quindi creando il cane di quartiere. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione inviando un'e-mail all'indirizzo redazionechioccialatvcity.it chiamando al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a lunedì con l'informazione del Tg di TV City. Grazie a tutti. Grazie a tutti.